Buongiorno a tutti, siamo in colo, mangiate una mano, e adesso arrivo a pezzo. Andiamo a venire a pezzo, e adesso arrivo a pezzo, e voglio arrivare a me. Questa è la mia scatina. E' il nome del tavolo, e questo va. E' il nome del tavolo, e questo va a pezzo, e questo va a pezzo, e questo va a pezzo, e questo va a pezzo. E' il nome del tavolo, e questo va a pezzo. E' il nome del tavolo, e questo va a pezzo, e questo va a pezzo, e questo va a pezzo. E' il nome del tavolo, e questo va a pezzo. E' il nome del tavolo, e questo va a pezzo. E' il nome del tavolo, e questo va a pezzo. E' il nome del tavolo, e questo va a pezzo. E' il nome del tavolo, e questo va a pezzo. E' il nome del tavolo, e questo va a pezzo. E' il nome del tavolo, e questo va a pezzo.